buongiorno amici e amiche del canale guardate poi questa mattina come faccio colazione con cinque saccottini alle mele e cinque saccottini al cioccolato dopo una bella faticaccia che ho fatto sono andato a correre ho fatto 15 16 chilometri adesso ci vuole il giusto compenso la giusta ricompensa allora come state tutto bene avete passato una buona settimana io sono stato abbastanza bene non c'è non c'è niente da dire guardate che roba da questo saccottino queste con le mele presumo lo apro guardate che spettacolo le mele dentro non so se si inquadra bene comunque buonissime mamma mia eccezionale se sentite qualche rumore è perché non sono solo dentro casa come mi dicevo sono andato a correre solida corsettina di sabato sciogli stress e sciogli anche calorie cioè di grasso perché fatto più di ho bruciato più di 600 calorie buono bicchierino di latte riscaldato buonissime guardate che roba ragazzi appena sfornate sembrano fatti in pasticceria questo al cioccolato guardate ragazzi guardatevi che roba buonissima buonissima mangi questi dolcetti non ti senti in colpa perché come ho detto all'inizio la giusta ricompensa al sacrificio che hai fatto mamma mia ragazzi io vorrei far assaggiare questa cioccolata è divina non so se l'inquadratura è fatta bene perché non c'è tanto sole mi garantisco che spettacolare vedete ci abbiamo permesso anche lo zucchero a velo che li rende ancora più dolci e non mi sento in colpa eh questa volta no non è che io mi sia mai sentito in colpa però diciamo se non fai nulla e mangi queste cose giustamente dici le devo le devo bruciare sempre quel motto mangia e brucia io già ho bruciato prima e adesso sto rimettendo dentro la benzina buoni 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 divini poi fatti in casa è tutta un'altra cosa mi chelino di latte appena riscaldato buoni 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 bu certo la cioccolata è più gustosa sinceramente però con la mela magari un po più leggero divino divino guardate le mele non so se si vedono bene buonissime eccezionale quasi quasi metto a fare il pasticcere come secondo lavoro buone 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 sono venuti proprio buone bravo guardate pure la forma come è venuta bene sembrano sofficini pendus la cottura pure niente da dire buone buone domani vado a marino ci sono i castelli di cioccolata è una sacra che fanno ogni anno e quindi ci andremo andremo a visitarla ma mi hanno detto che è carina vediamo farò anche un filmato così lo vedrete anche voi allora ne voglio uno col cioccolato qual'è col cioccolato? questo forza vediamo un po' apriamo ah eccolo guardate spesito spesito spesitissimo buono 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 eccellente io non è che faccio sempre colazione così eh soltanto il sabato e la domenica non è che faccio questi questi sbalzi calorici tutti i giorni altrimenti dovrei fare 50 km al giorno nei giorni normali faccio una colazione tranquilla una colazione latte e biscotti biscotti leggeri leggerissimi invece questa volta ci siamo concessi questo lusso guardate che roba ragazzi la pasta frolla è proprio qualcosa di eccezionale non c'è troppa luce quindi non credo che l'immagine verrà molto nitida però vi garantisco che mi sono venuti molto bene molto ma molto bene la prossima settimana mi dedicherò molto a voi perché avrò molto più tempo comunque scrivetemi nei commenti qualche cosa qualche 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 cosa che volete sapere qualche consiglio sono sempre ben accetti eh io come vi ripeto sono un vostro amico anche se non ci vediamo di persona però voglio instaurare un rapporto d'amicizia con voi magari chissà un giorno ci vedremo ci vedremo pure ci incontreremo pure mi farebbe molto piacere va bene ragazzi io vi finisco questi altri saccottini se no il video durerebbe un'ora e vi annoierei anche se già vi ho annoiato vi saluto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina così dicono di dire attivate questa campanellina che vi avvisa quando escono i miei video e lasciate un like ok ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao